Come stai? Bene Questa è la lezione anticipata Io la devo andare La lezione anticipata Attenzione c'è una macchina Non mi fate male Però mi dovete far camminare Fatemi andare Emozionato? Mi metti la colla tutti a piedi Ma io gli italiani sono Pronti a tornare alle urne Ottimete le urne? Non rilascio dichiarazioni Molti volte la vedremo fare questo percorso Di consultazioni Di salita al colla a piedi Grazie C'è un po' di emozione Grazie mille Scalini ragazzi Scalini non cadete Eh lo so Mi dispiace Ma almeno una parola sull'emozione Grazie Grazie Prego scusate Prego Grazie Ragazzi Grazie Un attimo Allora adesso Guardi fai l'ingresso per favore Credo che il messaggio del 4 marzo Sia chiaro su un punto Sono stati bocciati i governissimi I governi tecnici E i governi di scopo Dopo il lavoro che abbiamo fatto Di interlocuzione con tutti i gruppi Noi crediamo che un contratto Per assicurare un governo agli italiani Il Movimento 5 Stelle lo possa sottoscrivere O con la Lega Quindi un contratto di governo Tra Movimento 5 Stelle e Lega O un contratto di governo Tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico Piano 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 Ciao ciao Io non ringrazio Grazie Grazie Ho già detto tutto Grazie Ragazzi piano Signori piano Ci dobbiamo spostare Signori piano E ci dobbiamo spostare Per favore Grazie mille Non vi fate male Signori Signori facciamo passare No non ti ho toccato No non ti ho toccato Non devi spingere Non devi spingere Non devi spingere Non devi spingere Siamo lavorando anche noi Cazzo Potevi far rispondere per forza Le nostre dichiarazioni sono uscite Dalla bocca di Luigi Di Maio In conferenza stampa al Quirinale Quindi non ho altre dichiarazioni Grazie Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Salve Salve Fate sto governo E' domani E' domani Che può buttare E' il nostro lavoro No vabbè lo so Però se ve la potevate risparmiare Eh 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 Vittagio 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 Precedente a lui Precedente Grazie mille grazie davvero io vi ringrazio buon lavoro grazie a tutti arrivederci buon lavoro grazie mille a tutti un saluto saluto al centro Luigi un saluto Montecitori